Chiara Ferragni, ecco il suo tributo a Versace Una sfilata meravigliosa a quella di Versace, a cui partecipa come spettatrice anche Chiara Ferragni, la splendida fashion blogger che si riveste con look meravigliosi per il tributo al grande stilista scomparso ormai vent'anni fa. Chiara Ferragni alla sfilata di Versace, anche lei ha preparato un tributo. Il grandissimo stilista e imprenditore italiana Gianni Versace ha fatto la storia della moda italiana e internazionale, Chiara Ferragni, ovviamente, si è unita a un coro di modelle e testimonial meravigliose e ha realizzato un proprio tributo personale alla Maison. Innanzitutto, partecipa come spettatrice a una delle sfilate più emozionanti della Milano Fashion Week, insieme alla grandissima Donatella Versace, sfilano in passerella modelle da 90, nel vero senso della parola. Tra tante bellezze che indossano i capi della nuova collezione Primavera-Istate 2018, arriva una schiera di top model del calibro di Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Carla Bruni, rivestite d'oro per l'occasione. Quell'oro che ricordano solo la luminosa chioma di Donatella, ma anche il fasto di un impero costruito mattone su mattone dagli anni settanta in avanti. Tra il pubblico c'è anche un'emozionatissima Chiara, che ha girato un video per rendere omaggio al grande stilista. Il suo outfit per il tributo a Versace. Semplicemente meraviglioso, la fidanzata di Fede z'indossa un completo spezzato, con maglia stile pop-arte e una minigonna nera, piuttosto sensuale sulla sua perfetta silhouette. Ma quello del video non è il suo unico look griffato dalla casa di moda italiana, in uno dei post condivisi sulle Instagram Stories, infatti, ecco la meravigliosa allure elegante di Chiara, che passeggia per le strade di Milano con uno stile barocco, come lo definisce lei, riccamente decorato e molto appariscente. Si tratta di una gonna azzurro carta da zucchero, con meravigliose plisse decorate con file di perle rosa e viola a scuro, mentre il top presenta una fantasia leopardata con inserti floreali o afferenti ai fondali marini. Soltanto due outfit per rendere onore a Versace? No, ed ecco il terzo, per la cena celebrativa, Chiara ha scelto un completo formato da top cortissimo che si annoda appena sotto il seno e gonna a vita alta, che riprendono tutte le sfumature dell'illa. Anche in questo caso la stoffa presenta un mix e match tra diversi stili, dalla greca geometrica su polsini e colletto a immagini di stampo vintage. Chiara Ferragni ammira le modelle in passerella, tramiti e nuove creature della moda. Per il tributo a Gianni Versace la passerella della sfilata si ricopre di stelle del mondo della moda, tra passato e presente. Per gli anni 90, appunto, sono tornate un stage delle bellezze intramontabili che hanno segnato il fashion world, abbiamo ricordato la Campbell, la Schiffer e la Bruni, ma sono presenti anche Elena Schristensen e Cindy Crawford. Non solo, ci sono anche giovanissime modelle ventenni che stanno sempre più creando un nuovo modo di vivere lo star system del mondo della moda, rendendo sempre più partecipi i loro fan grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, social inclusi ovviamente. Un esempio? Le splendidi Gigi e Bella Hadid, colleghe e amiche di Chiara Ferragni la quale, ovviamente, non se le lascia sfuggire nei video della sfilata di Versace. Grazie a tutti!